tanti auguri da rione dal castello bravo bravo compi gli anni siamo pronti per salire sul tram chi si mangiava la schisciata sul tram una volta adesso invece serviti e riveriti ottimo ciurma che guida questo nostro bellissimo tram tutti in attesa tram 1 e tram 2 l'atmosfera così raccolta che tutti aspettano mangiare ma non è un matrimonio però tutti stanno un po aspettando tutti aspettano invece tutti possono iniziare a mangiare o anzi la la sensazione è che uno vuole iniziare a mangiare quando parte il tram si parte eccoci qua sul tram in piazza la palazzo marino piazza della scala dove si vede la statua di leonardo da vinci che leccia ma il mesliter e kater bicher che sono i suoi quattro epigoni